di vedere a casa senza nessun impegno l'opera in questione perché lo faccio proprio come un favore mio personale ovviamente sa benissimo che vedendo l'opera non si impegna in nessun modo ma l'unica cosa è che avrà la possibilità di vedere un'opera veramente bella, veramente importante che tra l'altro piace molto molto anche a me poi ogni tanto mi inviterà qualche volta a vederla a casa sua ovviamente entrerò a casa anche io senza impegno, non rimango a tempo indeterminato a casa ogni tanto, oppure ci manda una foto sui nostri social tra l'altro salutiamo anche gli amici che ci seguono oltre che sul canale 124, il digitale terrestre anche sul nostro facebook e so che da tutte le parti del mondo ci chiamano per vedere le nostre trasmissioni e infatti salutiamo Megan di New York davvero che è una nostra amica che ci guarda benissimo, allora il nostro amico la vede a casa senza nessun impegno? mi deve approfittare perché probabilmente quest'opera non verrà più presentata perché ovviamente sono opere di fine mandato per cui probabilmente molte di queste opere verranno ridate ai legittimi proprietari ti lo è disponibilità mi sia che vuoi la mia scat$%%1